carissimi amici e amiche bentornati nuova puntata con un bel viaggio nel tempo chiamiamolo così fatto da riccardo e da teneramata per tornare a san lui potosi ricorderemo che come vedremo oggi è il luogo dove teneramata e riccardo si incontrarono quindi il luogo dove al canto di quella canzoncina che già dovremmo aver sentito nominare che era la pajarera riccardo vedendo contemplando questa donna più grande questa ragazza più grande e molto più grande di lui sentì per la prima volta ecco i i moti umani dell'amore la scintilla dell'amore come l'avrebbe chiamata e come sappiamo questa scintilla è quanto basta quando si avverte per comprendere che quel tipo di relazione è un amore stabilito dal cielo vedremo che su questi temi si ritornerà a diverse riprese nel proseguo della narrazione ecco io non non mi dilungherei troppo anche perché tutte le cose belle viste nella puntata precedente sono disponibili per chi le volesse tornare ad approfondire evidentemente online su tutti i miei giornali che non sto a ripetere riprenderei la lettura del capitolo undicesimo siamo undicesima puntata e il capitoletto numero undici ecco oggi imparere un pochino di cose molto interessanti qui ogni capitoletto è è una miniera d'oro comincio con l'aiuto del signore la lettura alcune passanti vestite di nero con le gonne molto lunghe e i volti quasi coperti da scialli scuri se ne stavano in piedi immobili sullo stretto marciapiede di lastre molto consumate tenera mate indovino la mia domanda e mi rispose non stiamo nel normale andamento del tempo terrestre ci siamo situati nel tempo passato siamo nel 21 ottobre 1923 tenete presente che questa cosa è come abbiamo visto è alla fine degli anni 70 quindi è passato un po' di tempo che meraviglia risponde lui stiamo visitando il passato stavo visitando il passato mi sembrava incredibile ma davanti avevo l'evidenza e neanche ci siamo collocati nel ritmo normale del tempo passato qui ormai adesso parlerà di cose che avremmo già dovuto un po' familiarizzare no ci siamo messi in un paratempo ancora più lento di quello che ci serviva a città del messico quindi qui stiamo altro che milionesimi di picosecondo meno ancora ci muoviamo attenzione al ritmo di bilionesimi di picosecondo non milionesimi ma bilionesimi osservano quelle signore vestire di nero camminano secondo la cadenza del tempo comune di quella data tuttavia per noi non si muovono perché il loro camminare è troppo lento paragonato al ritmo del nostro paratempo adesso qui vorrei fare una piccola parentesi perché dopo le persone dicono che non capiscono tenere la mata ma non è tanto difficile nel senso che voi capite che proviamo a pensare quando noi camminiamo no cioè per fare un passo ci mettiamo più o meno un secondo no per muovere una gamba nell'atto di fare un passo ma se io mi sto muovendo a se io sto situato in un paratempo di bilionesimi di picosecondo vi ricordate che numero che era cioè qui stiamo ad una frazione assolutamente infinitesimale del secondo d'accordo quindi è quasi 0, non si sa quanti zeri prima di arrivare 0,00000000000000000000001 quindi è chiaro che ad un la gamba è ferma è evidente no spero di di essere riuscito a trasmetterla questa cosa è chiaro perché se io nel tempo per muovere la gamba per fare il gesto del del qui del muovere alzare il piede spostare la gamba avanti poggiare il piede davanti quello è un passo ci metterò un secondo circa è evidente che se stiamo a bilionesimi di picosecondo è tutto fermo è tutto immobile come era immobile ricorderemo il fumo della sigaretta a casa di ricardo chiaro quindi questo bisogna e questo dipende dal fatto che quando si entra nell'aldilà nella vita eterna e in particolare nella quinta dimensione le frequenze del tempo sono tantissime e chi vi abita può scegliere liberamente a differenza di noi io non posso fare una cosa di questo genere non posso fare nessuno di noi può farlo noi ci abbiamo ricordiamo sempre la schiavitù noi siamo come ricordate come erano gli schiavi di un tempo gli schiavi di un tempo nelle famose galere sapete perché la galera si chiama la galera no perché le galere un tempo erano le navi da guerra guidate e che erano che ai cui remi c'erano gli schiavi gli schiavi stavano incatenati al posto loro assegnato e ci avevano un remo che tenevano con due braccia e remavano quindi non ti muove da là il loro lavoro era il loro guerra che loro remavano per questo si chiama galera anche oggi in galera uno non può uscire dalla dalla galera sta là dentro stare inchiuso quelli stavano legati con la catena al 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 seggio loro assegnato della galera corremmo in mano potevano fatto noi siamo legati in questo modo al secondo il nostro tempo in questa vita terrena è l'istante attuale però cioè sapete no che per esempio quando tanti anni fa feci le catechesi sulla musica rock e c'era una sezione dedicata ai messaggi subliminali i messaggi subliminali per esempio agiscono a delle frequenze per noi impercettibili voi sapete che prima di vedere una singola immagine che il nostro occhio sia capace per esempio quando quando chi la vede vede la televisione cioè per vedere un'immagine ci vogliono tantissimi fotogrammi appiccicati l'uno all'altro perché un fotogramma tu non lo vedi credo che fino adesso non mi ricordo ma una certo un certo numero basso di fotogrammi appiccicati l'uno con l'altro il tuo occhio non li vede la pubblicità subliminale che è proibita dalla dalla legge però attenti è che cosa fa inserisce lo fecero con le coca cola negli anni 60 adesso non dovete parlare di questo se non finiamo più però inserisce due tre fotogrammi dove c'è la famosa bottiglietta di coca cola tutta con le gocce che cadono gelata tu non ti accorgi di niente ma attenzione pur non accorgendoli di niente perché tu non hai la nostra situazione attuale non è in grado di cogliere questa cosa che cosa succede che tu però il tuo inconscio la tua vista capta quella cosa e tu vieni condizionato ti comprare la coca cola questo è il messaggio subliminale quindi non dobbiamo stupirci dico queste cose perché non ci stupiamo di queste differenti frequenze temporali ecco perché noi in questo mondo a causa del maledetto peccato stiamo legati come uno schiavo alla galera all'istante attuale non possiamo farci niente cioè perché i messaggi subliminali sono proibiti perché bisogna stare attenti perché non c'è difesa da questi perché non ce ne possiamo anche accorgere purtroppo per la nostra schiavitù io non posso collocarmi in un picosecondo neanche in un picosecondo filiamoci milionesimi di picosecondo non lo posso fare non lo posso fare attenzione io non lo posso fare ma la mia anima ha la capacità di farlo ma questo non può non non è riservato alla vita del tempo presente scusate se mi sono dilungato un po questo mi dice che ci importa sono possono essere particolari un po tecnici però molte volte ho incontrato persone che mi hanno parlato di questo testo ma io qui sono tanti passaggi non capisco niente quindi bisogna focalizzare un pochino anche queste cose il concetto di paratempo oggi ho già spiegato che parà in greco significa presso quindi è un qualche cosa che sta presso il tempo nel senso che noi mortali non lo non lo coglieremmo come tempo che scorre perché sembra immobile per quanto bassa è la frequenza spero che sia leggermente meno complicato torniamo indietro ti spiego un po di più in questo momento adesso cediamo la parola a tenere amata io e te viviamo in un'onda temporale molto lenta riguardo al movimento della terra tale onda però è rapidissima per le passanti vestite di nero mette la nota don pablo infatti in questo lentissimo trascorrere del tempo si fanno molte cose che richiederebbero moltissimo tempo normale quelle che stanno facendo riccardo e tenere amata è perché loro vivono al ritmo dell'orologio e del calendario invece noi ci muoviamo alla cadenza di bimlionesimi di pico secondo più avanti lo capirai meglio spero io di aver contribuito a farlo capire un po meglio prima di andare più avanti perché è meglio capirlo subito ecco no aggiunse nell'osservare il mio pensiero non voler applicare le classiche equazioni del movimento odulatorio alle onde temporali non coincidono queste formule si compiono soltanto nel momento presente nel tempo normale della terra attenzione manca loro di tener conto del parametro della quinta dimensione come poi vedremo con questa nuova coordinata potrà intravedere come è possibile l'aumento della frequenza senza variazioni nella lunghezza e ampiezza delle onde inoltre scorgerà la coesistenza di diversi treni di onde temporali oh qui chiaramente sta parlando proprio di fisica allo stato puro d'accordo in cui peraltro io non sono un espertissimo ecco so qualcosa mi ricordo qualcosa ma io le scienze matematiche e fisiche ho sempre avuto un pochino di allergia quello che mi ricordo basta per orizzontarmi un po' dentro queste cose ok in ogni caso è una legge della fisica e quando cambia la frequenza cambiano anche la lunghezza e l'ampiezza delle onde non così nella quinta dimensione e questa è un'altra dimostrazione l'abbiamo già visto la volta scorsa della relatività delle scienze terrene per chi conosce per chi è colto Kurt Gödel dimostrò all'inizio del ventesimo secolo attraverso lo spazio cubo la scoperta delle geometrie dello spazio cubo la relatività del sistema euclideo che sembrava insomma una bestemmia assoluta ecco ma questo vale per tutte le scienze anche le scienze rigorose ed esatte e umane così facciamo demitizzare un pochino lo scientismo e il culto alla scienza con la H che oggi va particolarmente di moda chiusa parentesi riprendiamo il tempo il nostro tempo ha una stretta relazione col movimento ondulatorio esistono molte varietà di tempo che corrispondono a numerose onde temporali simili alle onde sonore e luminose per i mortali vige la rapidissima frequenza dell'orologio i viatori saltano da un secondo all'altro come se calzassero gli stivali dalle sette miglie ma non riescono a saltare da lunedì al mercoledì né da oggi a ieri non possiamo fare questo qui vivono con la loro coscienza legata all'istante attuale senza possibilità né di retrocedere al passato né di avanzare più velocemente verso il futuro chi sono questi? i viatori noi quelli che stiamo nella via quelli che stiamo in cammino quelli che stiamo nella prova viatori è un termine tecnico molto noto alla teologia cattolica molto usato per esempio uno che amava molto questi termini questo termine è San Tommaso io prima volta che leggevo la Somma Teologia me lo ricordo lui parlava tranquillamente con onschalanz dei viatori io all'inizio non ho capito ma chi sono questi viatori? dopo ho capito dal latino perché viene dal latino via viatori sono coloro che stanno sulla via e si distinguono dai comprensori così si chiamano tecnicamente comprensori cioè sono quelli che comprendono quindi che vedono l'essenza di Dio perché sono arrivati nella patria non sono più nel cammino sono giunti alla meta ecco scusate queste notazioni però anche queste credo che aiutino a capire meglio no? ed è così fino a quando la buona morte la morte nel Signore non viene a rompere questo rigido legame e si ottiene la liberazione la morte nel Signore ovviamente siamo liberati siamo liberi perché questa è una schiavitù questa qui amici io non posso cioè pensate quando noi per esempio stiamo vivendo un momento di un momento brutto della nostra vita un momento di angoscio un momento che è successo un guaio grosso quanto una casa e noi non ci possiamo sottrarre questa cosa qui e magari pensiamo o quanto stavo bene fino a fino a due mesi fa e non ci puoi tornare a due mesi fa ti tieni quello che stai adesso ma quando sarà finito probabilmente finirà al massimo che finisce con la morte ma tu fino a quando non è finito te lo sciroppi non c'è niente da fare non vi parla una schiavitù questa qui ineluttabile non ci possiamo fare niente quindi la morte tanto temuta da tanti nel signore la morte è una liberazione anche da questo nel frattempo prosegue voi vi affacciate appena al passato mediante i centri cerebrali della memoria che sono come finestrini da dove guardate confusamente la vostra storia attenzione vi affacciate al passato vi affacciate al passato voglio vedere stiamo in diretta se qualcuno poi finita la diretta osa dire che si ricorda tutto quello che è successo nella sua vita minuto per minuto secondo per secondo ora per ora e giorno per giorno eppure la vita l'hai vissuta tu no? cioè la mia vita l'ho vissuta io ma io capirai poi adesso che faccio arrabbiare le persone che mi stanno vicino perché con la vita che faccio quindi con le sollecitazioni come dire pazzesche a cui sottopongo la mia anima come dire cosciente nello stato presente quindi le mie facoltà la memoria l'intelletto la volontà con le tantissime cose che cioè io capace che non mi ricordo quello che ho fatto dieci giorni fa ma non capace non me lo ricordo e invece mi devo sforzare tantissimo cioè mi ricordo tantissime cose cioè capite perché la nostra memoria in questa vita imperfetta quindi fa delle selezioni a volte non mi credono mi parlano di una cosa e dico guarda che io non mi ricordo eh no tutte dico guarda che io le bugie non le dico mai io in questo momento non mi ricordo poi magari se mi prendi in un altro momento me lo ricorderò ma adesso io non me lo ricordo questa cosa quanto posso fare e qualcuno si avvelena dico senti avvelenate quanto te pare io non posso mica prendere la rivoltella non me lo ricordo che devo fare non me lo ricordo questo perché appunto la nostra per questo che la chiama così vi affacciate al passato appena vi affacciate al passato mediante qualche finestrino ma è un affacciamento confuso cioè riguardiamo confusamente la nostra storia è chiaro che poi però dentro il deposito della nostra memoria ci sono alcune alcune immagini che rimangono come dire nitide ferme sono le cose più significative o quelle su cui siamo ritornati tante volte perché la memoria per funzionare bene necessita di ripetizioni continue ecco vabbè scusate queste queste cose però è una lettura un po' meditata e commentata anche per comprendere bene quello che dice se no allora proseguo le passanti non possono vederci perché le nostre immagini attenzione rimangono nelle loro retine soltanto alcuni milionesimi di picosecondo figurati se tu non vedi due due immagini attaccate quindi che non stiamo nell'optica dei picosecondi siamo in una frazione di secondo forse sarà un millesimo di secondo non lo so adesso ma forse sarà un nanosecondo ma un nanosecondo rispetto a un picosecondo è una misura molto molto superiore quindi a un certo punto poi lui dice ma come mai queste non ci vedono noi siamo qui questi stanno lì in carne e osso ma che non ci vedono non possono perché muovendosi in questa frequenza temporale così bassa dice attenzione a questo passaggio le loro retine voi sapete che noi vediamo perché la nostra retina viene impressionata dall'immagine no? ma se un'immagine ti passa per milionesimi di picosecondo tu non vedi proprio niente e la frequenza temporale in cui loro stanno per quanto nel loro punto di vista infatti Riccardo nota dice ma stiamo parlando stiamo cosando come fa dimmi che è passato un picosecondo cioè ma è così perché quando ritornerà in sera vi anticipo la fine vedrà che la sigaretta era rimasta più o meno dove l'aveva lasciata e ci sono cento pagine di roba scritte qui noi avevamo a voglia ancora quanto dureranno le catichesi di tenera amata questo dobbiamo capirlo cioè dobbiamo provare a capirlo proprio per comprendere la differenza che c'è tra la nostra dimensione e le altre dimensioni spero che si riesca a capire un pochino adesso con qualche con qualche spiegazione no ecco almeno di avercene una rappresentazione mentale dice naturalmente prosegue l'acutezza visiva umana non consente di percepire immagini di così breve durata né le passanti fanno in tempo muovere gli occhi verso dove stiamo e quindi sono invisibili immaginai che la misteriosa frequenza nel tempo normale della terra è come un angusto sentiero sul quale camminiamo noi mortali verissimo ma con abissi insondabili ad ogni lato e se non cadiamo nel baratro senza fondo è per l'attentissima provvidenza divina pensai a come sarebbe terribile una caduta nell'abisso infinito del tempo qui chiaramente sta parlando Riccardo se Dio non si prendesse cura di noi resteremmo chissà fino a quando in una di quelle misteriose frequenze temporali come il paratempo in cui mi trovavo non vi è dubbio che la quarta dimensione la nostra è un complicato labirinto come fa bene Dio nell'impedirci di passeggiare per conto nostro nei paratempi ci smarriremo se già ci rendiamo complicata la vita ad operando le tre dimensioni dello spazio quanto più ci metteremmo nei pasticci se viaggiassimo attraverso le innumerevoli onde temporali quindi cosa sta dicendo che in teoria se Dio non ci avesse chiusi dentro non ci avesse legato a questa catena al remo noi potremmo cominciare a giochicchiare anche con le frequenze temporali così come giochicchiamo con le tre dimensioni lo spazio lo possiamo abbastanza bene dominare e governare non ci mettiamo tanto quindi le cose i viaggi gli spostamenti le case la geografia ma il tempo no il tempo non è il nostro potere il tempo non è il nostro potere noi possiamo solo fare del mostro meglio per amministrare il tempo quindi la scadenza continua e martellante ritmica sistematica dei secondi e per questo è importantissimo imparare per chi vuole diventare santo la gestione del tempo è una cosa fondamentale tant'è vero che alcuni grandi santi guarda Sant'Alfonso avevano fatto il voto di non perdere tempo perché perché sapete quanta gente dice ma come fai a fare tutte queste cose certamente c'è stata la grazia di Dio in primis però la grazia di Dio richiede che tu il tempo impari a ottimizzarlo a usarlo bene a non perderlo a non sprecarlo anche questo si fa con l'aiuto della grazia di Dio si fa niente senza l'aiuto della grazia di Dio però questo non avviene in automatico perché guardate questo succede appena tu appena tu abbassi la guardia e allenti un po' come dire perdi il controllo e cominci ad essere travolto dal tempo che passa non hai combinato un tubo durante molto meno di quello che avresti voluto e ti ritrovi con andare a dormire perché non te raggi più in piedi siamo dominati dal tempo possiamo dominare lo spazio entro certi limiti ovviamente perché non è che possiamo dominare lo spazio delle galassie ma il nostro piccolo spazio un pochetto ma il tempo no siamo noi sotto il dominio del tempo non viceversa importantissime queste cose meraviglioso davvero il complicato tempo continua Riccardo esclamando ma ancora più sorprendente è la maestosità della quinta dimensione che dovevo poi scorgere cominciamo a familiarizzarsi con questo termine quinta dimensione che possiamo anche chiamarla fin da adesso eternità creata familiarizziamoci già con questo vocabolario perché ci accompagnerà per tutta l'opera così come con quello di paratempo di picco secondo di frequenza temporale ok scusate se sembra un po' pedante però presto comprovai quello che mi diceva tenera la passante più vicina aveva il piede sollevato come per fare un passo ma non finiva di farlo non ripeto perché ne abbiamo già parlato poc'anzi mi viene mi viene la mente che così come quelle donne vestite di nero non potevano vederci altri visitatori forse in paratempi più lenti stessero ad osservarci senza che tenera amata ed io ce ne accorgessimo perché non era logico supporre che noi fossimo i soli viaggiatori attraverso il tempo in quei momenti ma se è così allora il mondo sarebbe come un teatro e i mortali gli attori ma senza applausi né fischi non glielo domandai perché il suo sorriso mi fece capire che aveva conosciuto il mio pensiero e sentite la risposta ma certo gli disse innumerevoli beati viaggiando attraverso il tempo innumerevoli contemplano gli avvenimenti quotidiani su questa terra oscurata da peccato e non credere che preferiscono osservare gli eventi che i mortali considerano molto importanti ma quelli che invece lo sono davvero aprire bene le orecchie glossa mia ovviamente atti di amore e di carità atti di amore e di carità vuol dire compiuti anzitutto verso Dio sofferenze sopportate con cristiana fortezza culto sincero al nostro Dio pace dei viatori santi la pace in cui vivono i viatori santi opere buone praticate attenzione senza rumore e senza vanità teneramata sta dicendo che i santi si infilano in qualche paratempo in modo tale che siano invisibili ai nostri occhi per osservare queste azioni non quello che fa il presidente degli stati uniti non quello che fanno i potenti della terra o anche le alte gerarchie quando fanno le opere sante queste sì che lo servano insomma tutto ciò che è veramente grato al Signore e che appunto per questo ha valore di vita eterna abbiamo da poco festeggiato il primo di novembre nel nuovo testamento credo che sia San Pietro si legge voi siete concittadini dei santi e familiari di Dio voi voi che siete ancora viatori e oggi abbiamo imparato un'altra cosa che i santi ci guardano se ci mettiamo in condizione di essere guardati ripeto atti di amore di carità sofferenze sopportate con cristiana fortezza culto sincero al nostro Dio pace dei viatori santi opere buone praticate senza rumore né vanità senza rumore né vanità prosegue molti angeli e dei più importanti così come numerosi umani glorificati sono tutti attenti alle libere decisioni dei pellegrini mortali libere decisioni amici miei libere decisioni ho postato ieri un tweet che con mio grande rammarico non ha avuto un grande successo forse era loro ma un tweet bellissimo dove c'è la più bella definizione di coscienza che sia mai stata data da Don Luigi Giussani a proposito di libertà che cos'è la libertà perché la libertà che ha immediatamente in causa la coscienza sentite che bella questa definizione e chi ha twitter lo vado a fare riprendere un post a twitter perché sapete su questi social infernali quando un post non parte alla grande quindi non non viene poi certamente ben come dire algoritmizzato quindi non viene diffuso è un guaio perché rimane morto sentite che dice la coscienza è il luogo dove la libertà dell'io ascolta la voce di un altro con la maiuscola il luogo in cui emerge l'oggettività di un ordine dato oltre sé cui obbedire bellissimo il luogo di esercito noi la nostra libertà la esercitiamo davanti a dio davanti a dio non davanti agli uomini essere liberi significa imparare ad agire sempre sotto gli occhi dell'altissimo non sotto gli occhi dell'altissimo come di un controllore tipo il mondo orwelliano che ti controlla e poi no ma sotto gli occhi di uno che ti ama infinitamente e che nella misura in cui tu ascolti quello che delicatamente ti dice ti suggerisce di fare tu sarai a fare una grandissima vita una meravigliosa vita una bellissima vita questi angeli e santi che ci guardano giubilano quando vedono l'adempimento fedele della legge del Signore e si deprimono senza però soffrire già che nella patria non si si sentono le emozioni attenzione ma senza nessun dolore quando si produce una deficienza morale grave attenzione a questo passaggio nell'aldilà si sentono le emozioni noi a volte ci pensiamo pensiamo agli spiriti a questi spiriti disincarnati eterei che stanno in una sorta di mondo spiritual atarattico dove si sente niente quando mai le emozioni ci sono ma non è possibile soffrire si provano emozioni ma senza dolore non stiamo a pensare troppo come è possibile perché se fosse sapessi che se capissimo perfettamente come è possibile non staremmo sulla terra ma staremmo nella quinta dimensione ci siamo quindi però qualcosa possiamo percepirla cioè il concetto possiamo afferrarlo nella fede è sempre così nelle realtà di fede mai noi possiamo comprendere perfettamente possiamo però cogliere l'essenza qualcosa la quidditas il concetto e farlo nostro e non può immaginare come corre la voce nel cielo il più piccolo viatore che sia fedele cristiano incomincia ad essere famoso nella gloria ma ci avete pensato famoso dice guarda qui cioè un poveraccio ma noi queste cose non ce le rendiamo conto pensiamo se qualcuno di quelli che stanno ascoltando queste cose è famoso nel cielo perché sta andando alla grande se è un fedele cristiano se è uno bravo se è uno che che mette in pratica la legge di Dio che mette in pratica anche tutti i suggerimenti che il Signore gli manda che tende sempre al meglio al migliore al più perfetto dice ho visto è visto Nicola arcivicchio ho visto è visto Francesco è visto che sa combinare lo dicono i santi nel cielo corre la voce si spargono la voce fatte una facciata fatte a vedere quello che sta combinando di bello sulla terra così dice Teneramata e questa è tanta roba noi non lo sappiamo qui un giorno poi lo sapremo immaginate uno che ha tirato lo sguardo del cielo che entra in paradiso entra entra la grande non dico insomma come come i cortei trionfari degli imperatori o dei consoli quando tornavano dalle battaglie insomma però entra la grande se è stato oggetto di ammirazione degli angeli e dei santi insomma magari si farà un po' deburgatorio ma poi comunque entra entra la grande in cielo entra a punta di piedi allora le dissi con ottimismo non esiste la solitudine umana non è vero? infatti risponde nessun mortale si trova assolutamente solo naturalmente il nostro Dio è sempre con lui pensiamoci spesso in qualunque istante in qualunque momento della giornata cioè noi adesso abbiamo i modem i modem connessi no? che brutto esempio che il signore mi perdoni però per far capire se io ho il modem sempre connesso e il computer acceso che cosa ci metto? schiaccio un tasto si sblocca lo screensaver e sto già online non devo fare niente perché il modem è connesso il modem connesso significa che sta H24 online internet è sempre disponibile che brutto esempio ma dire così è ancora di più in qualunque istante basta solo un movimento del pensiero per rivolgerti a lui sempre presente sempre con noi qui si coglie anche un po' pensiamo all'atto di fusione della divina volta Gesù facciamo tutto insieme tutto insieme inoltre sono di solito presenti diversi angeli e umani glorificati vicino a noi ce lo sta dicendo probabilmente molti di essi figuriamoci se abbiamo un nostro caro glorificato che non viene vicino a noi qui ci sta dicendo delle cose belle tenete a mano sapeste quante volte a me che sono un prete vanno a dire ma è morto ma mio padre mi vede mi sente dico ma figlio certo dico come fai a pensare di no tu non vedi o non senti lui ma figurati lui nella dimensione in cui è entrato ovviamente si è salvo vediamo attenzione come è logico loro non interferiscono mai direttamente nel divenire storico e libero dell'umanità viatrice invece pregano il signore per essa più avanti perché perché non interferiscono perché non devono interferire perché l'interferenza altererebbe le dinamiche di libertà cioè oggi Tenera Mata ci ha detto questa cosa però noi ce la possiamo dimenticare tu pensa se noi ci vedessimo degli angeli vicini che se facciano a Marachella si mettono le ali davanti agli occhi e adesso dico una cosa tanto per dire no cambierebbero tante cose ma se no sarebbe meglio così non le faccio non è vero manco per niente perché la tua cioè allora anche nell'imparare che una cosa che tu fai e che ti sembra che non c'è niente di male in realtà è una Marachella richiede l'esercizio della libertà l'impegno a stare in formazione continua l'impegno ad ascoltare la voce di Dio che ti parla nella coscienza e che se una cosa è una Marachella sta tranquillo che se tu sei aperto delicatamente te lo fa percepire te lo fa notare perché tu liberamente quella cosa cominci a dare una Marachella cercheremo di evitarla e questo va a tuo merito va a tuo merito sia l'aver ascoltato la voce di Dio che ti dice questa è una Marachella uno ascoltarla due accoglierla tre agire di conseguenza e questi sono gradi di gloria più grandi in cielo amici miei troppo facile che l'angelo si mette le mani davanti alla faccia davanti a me e così quella cosa non la faccio più capite che mancano tutti e tre questi passaggi la ricerca e quindi la scoperta e la presa di coscienza il riconoscimento di questa cosa e poi l'azione libera adesso cercherò di evitarla l'universo dei beati è molto interessato ai mortali e perciò è loro impossibile dimenticarli attenzione adesso questa è un'altra chicca e perché tanto interesse perché ogni inviatore dice tenera amata è o può diventare un figlio adottivo dell'altissimo per mezzo della sua grazia e quindi una fonte di gloria per lui attenzione ma siccome la gloria divina riverbera nei beati giacché l'altissimo ci rende partecipi della loda universale che riceve è logico che i santi del cielo facciano molta attenzione a tutto quello che potrebbe aumentare il celeste gaudio mi rifermo che ci sia un beato in più in paradiso per i beati stessi non è la stessa cosa oltre che per l'altissimo perché un beato per essere tale vuol dire che ha dato gloria a Dio vuol dire che ha accresciuto la gloria occidentale di Dio e questo riverbera come delizie come benefici e godimenti su tutti gli altri beati capite se tu non diventi santo questa sera ti do un bel danneggi pure il prossimo oltre che danneggiare te stesso privi il prossimo di alcuni beni vatti a confessare vatti a confessare l'altissimo ci rende partecipi della loda universale che riceve partecipi della loda universale cioè la gloria accidentale dell'altissimo ci sta dicendo è da lui partecipata ai beati che infatti anche beati oltre alla gloria essenziale che è l'ingresso la partecipazione la visione della gloria che a Dio appartiene in quanto Dio e che non gliela toglie nessuno ma ci abbiamo anche la gloria accidentale cioè il godimento di tutta una serie di accessorie cose bellissime e che integrano e che sono appunto accidentali nel senso latino del termine accedere significa stare attaccato a perché sono un corollario un contorno della gloria essenziale che è la prima dici quindi pensa quando credi di essere solo che molti occhi intellettuali ti stanno amorosamente osservando e desiderano con fervore che tu ti comporti in quel momento d'accordo con la legge del Signore e la gloria che tu otterrai si ripercuoterà negli altri beati e bisogna ricordarlo questo qua amici cari succede la stessa cosa con tutti i mortali della terra risposta quanto più è cristianamente umide il viatore maggiore è il numero di spettatori che ha perché più grande è la probabilità di dare al nostro Dio l'odi di gloria per mezzo delle opere di amore di carità e perciò tutti beati quindi capite più umili diventiamo e più spettatori ci abbiamo oggi tutti quanti sono presi dalla moda del faccio il video su TikTok e vediamo quanti spettatori ho riscontrato carico il video su YouTube e vediamo quante visualizzazioni ho oggi abbiamo imparato che ci sono altre visualizzazioni ben più importanti ma tu ti immagini se San Francesco sta a guardare quello che stai a fare tu cioè insomma San Francesco o Padre Pio o la Madonna boom o San Giuseppe devi sapere che la gloria accidentale cioè la felicità che nel cielo causano le creature non il creatore rassomiglia all'ambiente della terra se qualcuno lo inquina tutti ne risentono ma se c'è chi lo purifica ed arricchisce il beneficio è per tutti per alcuni istanti di paratempo considerai che dovevo essere molto attento alla mia condotta privata già che qualche beato potrebbe osservarla ciò che non pensavo è che Dio mi guarda continuamente dobbiamo pensarci a questa cosa un tempo sulle porte dei monasteri io l'ho visto per esempio se uno va a visitare la città di Castello il monastero di Santa Veronica Giuliani lo vedrà questa cosa qui sulla porta la scritta Dio ti vede ma anche qui non è la scritta già sento le voci di certi dottoroni attuali dicono Dio ti vede che cos'è qua uno deve stare sulla cappa sotto la cappa di questo di questo supervisore che controlla e fischia tutte quante le cose che non funzionano mamma mia mamma mia no ecco allora facciamo in tempo a introdurci anche al capitolo 12 Teneramata ed io continuiamo in piedi sullo stretto marciapiede di Ponente di via dell'indipendenza nella San Luis Potosi del 1923 vuoi affacciarti alla casa delle signorine Campos propose la mia amata morta non la chiamo così faccio un sacco di risate eravamo di fronte alla casa di quelle signorine era una modesta casa in un rione unile di San Luis ma con l'area di essere abitata dalla gente almeno un po' benestante due finestre coniferiate sulla strada corrispondenti ad un piccolo salotto spalancate con tendine comuni e logorate vecchie tende raccolte affinché dalla strada i passanti potessero godere di un po' di musica a casa e lecce guardate la finestra e contempleo uno spettacolo che mi sbarordì lo avevo già visto e anzi vissuto molti anni prima vidi una decina di persone una maggior parte donne serute di mobili attorno alla stanza tutte vestite di colore scuro e in contegno molto modesto le osservai meglio e sì riconobbi le signorine Campos discretamente ornate mi stupì perché so che attualmente non c'è più nessuna di loro dopo quando tenera amata mi spiegò la maestosa quinta dimensione intravidi la spiegazione del prodigio che meraviglia c'era lì la mia nonna paterna morta 30 anni fa impossibile comprendere ciò che mi stava accadendo era una fusione misteriosa del passare e del presente ma il passato risultava molto attuale ritornavo io non soltanto a ricordare attenzione a questo passaggio ma ad assistere a ciò che avevo già vissuto molti anni addietro il passato era così reale che mi riusciva difficile accettarlo come già accaduto solamente il recinto lo trovo più stretto attenzione domanda che idea abbiamo noi del passato qualche cosa che è accaduto e che è finito e che l'unico modo per rievocarlo in qualche modo è ricordarlo attraverso la memoria con quei ricordi che spesso sono sbiaditi no amici cari non è così il passato è passato solo per noi che stiamo legati all'istante presente ma quando saremo slegati il passato non è più passato è la quinta dimensione è l'eternità creata che si chiama appunto eternità creata perché perché a differenza dell'eternità increata tanto torneremo su questi concetti perché ne parlerai esplicitamente dell'amata l'eternità increata è quella di Dio e io sono colui che sono l'eternità increata però tutte le cose che Dio ha creato fuori di sé che hanno cominciato ad esistere nel tempo ogni secondo ogni istante mano a mano che si svolge per noi diventa passato ma per Dio e per i comprensori diventa eternità creata perché tutto ciò che è non può essere annichilito non può finire non può tornare nel nulla non può essere un ricordo riprendendo la lettura lui è stupito del passato che sembra così reale ma non poteva non poteva essere non poteva pensare che fosse un'illusione perché la realtà era troppo oggettiva non era il ritratto di mia nonna materna che io guardavo ma lei stessa vive a corporea benché immobile c'erano anche come state inalterabili le mie zie paterne scorparse ormai da molti anni che gioia rivederle e salutarle non illuderti mi avvertite l'era amata potrei soltanto guardarle non toccarle perché sono ormai già glorificate e il contatto con loro ti ucciderebbe di felicità anche qui capite? attenzione lui le vede così come erano nel 1923 dice queste però sono morte vero sono morte e quindi però attenzione quell'istante che stanno rivisitando siccome quelle sono morte se tocca loro una di loro dopo che sono morte le sta toccando nella loro condizione di glorificate glorificate come? glorificate eppure siamo nel 1923 sì glorificate siamo nel 1923 perché un'anima glorificata come vedremo ha il possesso perfetto di tutti gli spazi tempi cominciamo a familiarizzarsi anche con questo linguaggio della sua esistenza tutti e quindi se la tocca dato che si trova in quella condizione la felicità lo ucciderebbe noi non possiamo avere ho detto tante volte contatti ed esperienze troppo forti con il cielo non perché Dio non ce lo vuole dare ma perché non siamo in grado di reggerli non abbiamo la capacità moriremmo di felicità in questo mondo ma tu mi hai toccato e anziché uccidermi mi rinvigorisci risposta è che loro non ti accarezzerebbero con prudenza nel riconoscerti ti abbraccerebbero pieni di gioia e questo contatto ti farebbe morire irrimediabilmente di felicità per la stessa ragione anche il nostro Dio quando accarezza l'anima di un mortale lo fa molto lievemente fugacemente oh attenzione Dio ci dà un po' di carezze lo fa però lievemente fugacemente il Signore vorrebbe certamente reiterare la carezza ma il denso smog del peccato glielo impedisce cioè il Signore deve andarci piano con noi pensate anche se vorrebbe andare molto più forte perché perché altrimenti anziché farci del bene quindi farci sentire quella delicata impercettibile carezza ci farebbe del male oh vi invito dopo questa catechesi di andare a ritrovare un pezzo di quando io ero bambino chi se la ricorda quella carezza della sera dei New Trolls ricordate che bellissima non so più se mi manca di più quella carezza della sera o quella voglia di avventura ecco quando si sente dire quella carezza della sera pensiamo che potrebbe darcela anche il nostro Signore è così eh ha detto te ne ero amato non l'ho detto io e per quale ragione nessuna di loro si muove per la lentezza del nostro paratempo la capoccia gliel'ha già detto in confronto alla cadenza del tempo ordinario della terra e al ritmo velocissimo in cui tu ed io ci muoviamo non ti meravigliare che coincidano due ritmi temporali molto diversi se in una piscina tranquilla tu butti due pietre ognuna in un'estremità della stessa si formeranno treni di onde diverse e persino opposte ma coesistenti immaginate questa scena ebbene le persone che si trovano nel salotto vivono in onde di tempo differenti dalle nostre riprende Riccardo la mia nonna paterna le mie zie così umile e cortese così affettuose come furono con me stavo per dire poverine ma no essendo ormai qualificate piuttosto povero me che sono ancora avviatore e chi è quel bambino molto stupito presso il pianoforte dice Teneramata mi domandò Teneramata con un certo tono scherzoso era un ragazzino di otto anni grassetto che infatti aveva l'espressione di sbalordito lo guardai meglio eh ed ero proprio io sì io stesso nella mia infanzia adesso il più stupito ero io anziano no 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 ciò non era possibile no no ciò non era possibile comincia a pensare Riccardo era completamente assurdo cioè si trattava sicuramente di una strana allucinazione dovuto alle meraviglie che mi accadevano in questo paratempo la mia logica mi assicurava dell'impossibilità reale di ciò che vedevo cioè no immaginate la scena cioè immaginati se tu adesso ti vedi realmente non è che tu ripensi a quando c'avevi 5 anni ti trovi ti ritrovi nella frequenza temporale io devo andare nel 76 per trovarmi a 5 anni e mi trovassi lì e mi vedessi a 5 anni con i pantaloncini corti con le scarpette con l'occhi che sto correndo per il giardino di casa e mi vedo reale che se mi avvicinassi potrei toccarmi capite tutto l'essere sbalordito no? dice no 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 semplicemente non potevo comprendere che io il vecchio stessi a guardare dalla finestra niente di meno che me stesso il bambino in piedi accanto al pianoforte nonostante tanti prodigi non potevo sopportare quest'ultimo che superava la capacità del mio intelletto leggo un po' velocemente che dobbiamo chiudere non ti meravigliare cercò di guidarmi tenere una mano molto commossa quel bambino sei tu ricorda che stiamo visitando il passato sei tu stesso 48 anni fa quindi Riccardo c'è da 56 anni poco più grande di me mi dispiace ma non posso crederti io sto qua sulla strada e quel bambino è nel salotto vicino al pianoforte è vero che nei ricordi mi rassomiglia molto ma nient'altro nient'altro no amore mio sentite come lo chiama amore mio amore mio eh non era la moglie attenzione quel ragazzino e tu siete la medesima persona la stessa anima spirituale sta animando quel bambino e attualmente anima te tanto riprendiamo la prossima volta da qui la tenerezza della mia bella amica aveva demolito tutte le mie obiezioni la dolcezza frantumano le rocce e benché il mio intelletto dubitasse il mio cuore si era convinto quel bambino ed io eravamo assolutamente la stessa persona attenzione la tua anima spirituale sta animando quel bambino e attualmente anima te cominciamo a fare qualche sforzo eh tuttavia come era possibile Riccardo che un'unica anima vivificasse due corpi diversi il mio corpo infantile è quello attuale non si somiglia né nulla sono essenzialmente differenti non solo in età peso e statura ma anche nelle fattezze nella materia stessa è vero che molto tempo fa io ho visto una situazione simile qui in casa delle signorine Campos che stetti in piedi presso il pianoforte che mi innamorai della splendida ragazza quando lei vicino a me canto la paccarera in quell'occasione indimenticabile ma ciò che sta succedendo adesso pensai è una strana coincidenza delle circostanze comunque forse un'energia sconosciuta mi spingeva verso il bambino credetti che tenera amata cercava di rappresentare come nel cinema l'evento accaduto 48 anni prima quindi pensava che fosse un film ringrazia di cuore il suo amoroso tentativo e perfino pensai di tenerle il gioco continuare per continuare quella specie di illusione d'amore fu poco dopo quando la mia amata morta mi permise di scorgere il pontetto della quinta dimunzione che compresi la soluzione dell'enigma dei miei due corpi in esistenza simultanea ecco non c'è molto da commentare ci lasciamo così familiarizziamo con queste cose due corpi in esistenza simultanea una persona di 58 anni che vede il suo corpo di bambino non come un ricordo lontano ma come qualche cosa che potrebbe toccare e parlarci nel momento presente teniamolo presente perché sarà molto utile per le prossime puntate a cui vi do se credete appuntamento Dio vi benedica e sempre la Madonna vi protegga a presto